Papa Francesco in un videomessaggio incoraggia i popoli della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan dopo il rinvio della sua visita a causa dei dolori al ginocchio che si doveva tenere proprio in questi giorni. Non lasciatevi rubare la speranza, ha detto. Sentiamo. Cari amici congolesi e sudanessi, le parole in questo momento non bastano a trasmettervi la vicinanza che vorrei esprimere e l'affetto che provo per voi. Vorrei dirvi non lasciatevi rubare la speranza, non lasciatevi rubare la speranza. Pensate che voi siete tanto cari a me quanto più siete preziosi e amati agli occhi di Dio che non delude mai quanto ripongono speranza in Lui. Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici, quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. È una missione da assumere guardando insieme al futuro, a tanti giovani che popolano le vostre terre rigogliose e ferite, riempiendole di luce e di avvenire. Essi sognano e meritano di vedere realizzati questi sogni, di vedere giorni di pace. Per loro, in particolare, occorre deporre le armi, superare i rancori e scrivere pagine nuove di fraternità. Vorrei dirvi ancora una cosa. Le lacrime che versate in terra e le preghiere che levate in cielo non sono inutili. La consolazione di Dio verrà perché egli ha progetti di pace e non di sentura. Già d'ora, in attesa di incontrarvi, chiedo che la sua pace scenda nei vostri cuori e mentre cresce di giorno in giorno la testa di vedere i vostri volti, di sentirmi a casa nelle vostre più vecce comunità cristiane, di abbracciarvi tutti con la mia presenza e di benedire le vostre terre, la mia preghiera si identifica, così come l'affetto per voi e per i vostri popoli. Di cuore vi benedico e chiedo anche a voi di continuare a pregare per me.